bella a tutti ragazzi siamo io in bomber a proizio ed oggi siamo tornati in questo noi ragazzi qua faremo una challenge bomber vincenzo con i carati abbiamo preso la balla di mondo come questa perchè visto che vola che poi rocco non voglio scassiamo la casa visto che vola è più divertente sia per voi che per noi un attimo quindi appena il vera e il bomber tra tre secondi inizieremo questa allora ragazzi anzi prima dai basta non ce la faccio fare allora prima di tutti prima di tutto vi vorrei far vedere che allora prima di tutto noi ci compreremo questi su amazon sprite questo che costa 3 1,95 con lo sconto con lo sconto di che costerebbe costerebbe in realtà 43 40 euro sì 39,88 poi ci compriamo questo che non riesco a vedere il costo ma è troppo bello ragazzi sì 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 se lo fa vedere aspetti per asserti per questo che è vero e allora e poi c'è l'ultimo e poi un'altra boom e questo in realtà costa 5,25 ma il realtà costa 39,80 questi sono quelli che ci spavamo il video di lo speciale se arriveremo 80 iscritti con questi e poi annualmente questi Questo da 3 euro, questo è quello da 3 euro, e ne abbiamo per 2 euro, quello più costoso è più costoso, è più costoso di qui, è questo, premio su questo, alza un po' la video, ecco mai, vai, 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 va bene raga, vai, fa' una tutta, e poi la sorpresina, e poi la sorpresina, allora questo con i letti raga i led sono beh non li riesce a far vedere sono blu blu verdi e rossi 5 euro al come dico tutto il costo questi che 2 euro 3 euro 5 euro ok ma ora non voglio più niente da dire non voglio dire più niente e si inizierà con la connessione intanto metti pausa cadono tutti i figi ragazzi quattro minuti per la presentazione degli fidget spin e ora si può iniziare non fare un giudato mi fai andare in giro chi fa un palleggio poi fa fa un gol no parlo fuori ora fa ancora, quindi non puoi sparare bene fuori ragazzi intanto la facciamo qua no no che immagino che immagino che immagino grazie prego dite tutti i sotto commenti apro virgolette hashtag apro virgolette grazie apro parentesi scrivo prego chiudo parentesi la hashtag di questo video la hashtag di questo video raga però più like più like noi non possiamo fare video senza avere like come ci cazziamo però io su questa casa nuova sto rovinando i puni ve lo faccio vedere non ottimo ora di fare ve lo vuoi dire non si possono vedere vede questa zona ma che no non so cos'è su del telefono se le vedete ma qua se abbiamo tutto sporco perchè lo facciamo per voi voi non ci ricompensate cazzo ah un bel like ma che qui costa vi fa male il video ma potete fare tic io non lo so passare sta parte grazie grazie oh e la mette dentro perchè la porta è tutta la porta è tutta ora ora un giro di sinistra vediamo il mio video allora dopo avremo un altro video che mi è venuto in mente che non sapete ancora ancora io lo so ragazzi non ci ricordo non ci ricordo perché dai andoi mamma mia stavo segnati sforbiciato sto parlando guarda mamma la mette dentro tre gol e vabbè ma non ne hai chiesto vabbè vabbè c'è la parata c'è la parata c'è la parata c'è la parata di bubbi ad osserva c'è la parata di bubbi ad osserva eh no perchè è tutto eh no no perchè è tutto 5 appena ripartisci il gol finita questo video vabbè allora finisce tra un secondo ti rifaccio no no non lo devo fatti niente sei non lo devo fatti niente adesso facciamo la parata quando faccio 10 gol finisce il video vediamo un cattolino un cattolino allora è di 7 e 30 quindi vai vogliamo fatto bene mamma fuori fuori uno abbiamo fatto lì fuori un cattolino tre no 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 qui ma niente non sei benissimo provo a torna a porta che lo so per farlo muoviti 5 guarda che è entrato 4 ancora 5 e altro è però non esci non posso tirarlo quando devi uscire? fuori? guarda me la dà allontanare che vuole che io la stompo e perdo il tempo infatti sta ridendo guardate vedi eh 6 5 6 1 7 che gol? un missile 7 6 7 7 8 8 40 quindi già sto a 2 9 8 ragazzi 8 8 8 9 10 10 10 10 minuti da 7 9 23 quindi 2 minuti e 23 no perchè stavano a 7 minuti e 30 8 8 8 9 9 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 16